Vittor Mesa a Pescara per seguire da vicino le sorti della formazione bianca-azzurra. Mesa non è un momento molto facile, semplice per il Pescara, le cose non stanno andando bene, però, diceva il presidente Sebastiani, occorre avere fiducia in questa squadra e anche in questa società. Io también tengo molta fiducia nella squadra, sé che il momento non è un momento buono, ma dobbiamo aspettare perché il campionato non è finito, non abbiamo giocato con, io dico, tengo un concetto che il campionato, sono due campionati, e il campionato del Pescara sono con tre o quattro o cinque squadre che sono accessibili per il Pescara e non abbiamo giocato con tutti, quando è finita la prima volta possiamo parlare più tranquillo e dobbiamo aspettare con fiducia, questo è lo che posso dire. C'è una vera e propria emergenza in fortuna in vista della gara di Roma, praticamente c'è solo un difensore di ruolo inorganico, partita difficilissima all'Olimpico, si cercherà comunque il miracolo. Sì, la partita dell'Olimpico è difficile, come fu la partita con la Juve, molto difficile, e sono tutta questa squadra che tiene un ingresso molto milionario e non potremo competire con questa squadra. Ma dobbiamo aspettare che in dicembre venga una nuova possibilità di altro giocatore per il problema dell'infortunio, di tanto infortunio che abbiamo ottenuto con tutti questi giocatori. Anche alla luce dei tanti infortuni, a gennaio ci sarà il mercato, come si suol dire, di riparazione, società pronta a portare nuovi giocatori a rinforzare questo organico? Sì, io credo che sì, dobbiamo avere la gravità dell'infortunio, per se possiamo contare, ma a me piace, la mia idea personale, se può ritraire uno o due riforzioni per la seconda volta. Lei conosce molto bene il mercato del Sud America, il direttore sportivo Leone, proprio in Sud America in queste ore. State trovando il nuovo Torreira per il Pescara, o comunque qualche giocatore che possa avere un rendimento, come lo ha avuto Torreira l'anno scorso? Torreira bene, mi allegro molto per lui. Luca sta in Sud America e stiamo parlando tutto il giorno per la possibilità di altri giocatori.